Benvenuta Revisorev 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 Alrights Da poco meno di un mese sono cominciate le scuole. Voi ve lo ricordate uno dei vostri primi giorni di scuola? Quando si rincontrano gli amici, ci si racconta di come sono state le vacanze, delle belle giornate, no? Eppure sono sicuro che ognuno di noi, indipendentemente dalla generazione, che sia la mia, che sia la vostra o quella dei vostri figli, se le avete, ognuno di noi, almeno una volta, ha pensato a questo. Beh, e in fondo chi ci può dar torto? Tre mesi di assoluta libertà, però con lo spauracchio, con il fantasma di settembre che ritorna, con la scuola che ritorna, e quando ritorna giù compiti, verifiche, studio. Che palle! E allora perché esiste la scuola? È un obbligo. Questo non significa che dobbiamo abolire la scuola. Ci mancherebbe altro. Però perché esiste veramente la scuola? Normalmente le risposte che diamo potrebbero essere queste. Per educare i giovani a stare nella società, per crescerli come lavoratori, per crescerli come persone. Quante volte gliel'abbiamo detto questo ai ragazzi e ai giovani? Un milione? Forse un miliardo. Ma loro ci credono? Vi faccio un esempio. Quante volte ci siamo trovati tutti quanti di fronte a quel mattone di storia, di filosofia, di letteratura, a dannare la vita e pensare quando mai mi servirà? Ecco allora che cosa facevamo? Cercavamo magari una distrazione. Guardavamo, accendevamo la tv, o quando eravamo più piccoli magari andavamo a giocare con gli amici, o quando eravamo più grandicelli chiudevamo il libro, ci vestivamo e magari uscivamo. Ecco, la fatica che noi facevamo nel chiudere il libro, nel vestirci, nel uscire con gli amici, i giovani di oggi l'hanno minimizzata in un solo movimento. Ecco, questo non è solo il simbolo moderno della socialità, non voglio parlare di questo oggi. Questo strumento è in grado di reperire qualsiasi informazione dello scibile umano, semplicemente facendo una ricerca su Google. Ma più che altro è in grado di riprodurre qualcosa che i libri non saranno mai in grado di fare, che sono immagini in movimento, i video. Per cui in realtà la prima causa di distrazione dei giovani al giorno d'occhi, grazie a questo, è YouTube. YouTube conta circa due miliardi di utenti attivi ogni mese, in rapida ascesa. Più di un miliardo di ore di video viste al giorno. Sono tante, eh? E in un'era dove l'informazione è diventata la moneta principale, dove l'accesso veloce alle informazioni è diventata una priorità, con la scusa di dare ai giovani uno strumento in grado di reperire informazioni, di fatto noi gli abbiamo dato la prima causa di distrazione. Eppure l'obbligo di studiare esiste ancora, eppure siamo ancora lì di fronte a quel libro, a quel tomo di storia, di letteratura, di geologia, a dannare la vita intera, a dannare i professori, perché mi fanno studiare una cosa che probabilmente la troverai tranquillamente su internet quando mi serve, se mai mi servirà. E allora ecco che torna il tema del a cosa mi serve. Oggi viviamo, beh in realtà non oggi, negli ultimi anni ormai, in un clima di scarso lavoro, soprattutto a livello giovanile. Lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, lo ascoltiamo alla radio. E in più serpeggia tra i giovani quella sensazione che per ottenere un lavoro decente oggi forse non ti serve studiare, ti bastano due cose, fortuna e le giuste raccomandazioni. Che studiare allora magari non ti serve, anzi, che ti basterebbe imparare quelle quattro cose che ti servono per rimediarti un lavoro decente, magari non ambizioso, ma che ti porti a casa il pane e il resto lo puoi trovare tranquillamente su internet. Stiamo vivendo in un periodo di fortissima disillusione nei confronti dello studio. Da entrambi i lati, il lato dei giovani che vede nella scuola un sistema antico, vecchio, sorpassato, preistorico, che non ti prepara alla vita vera. Ma anche dal lato degli adulti, dei genitori, che vedono sempre con più preoccupazione il fatto di voler trovare un lavoro, anche di nuovo non ambizioso, ai propri figli. Ecco quindi che crollano le iscrizioni all'università. Ecco che si alza il tasso di abbandono scolastico. E non solamente per i ragazzi, anche in giovane età, anche i bambini. Ci preoccupiamo di volergli dare un lavoro che già gli insegniamo i lavori del futuro. Ecco che i bambini cominciano a imparare il cinese o la programmazione, a discapito di materie come la geografia, che sta lentamente scomparendo dalle scuole. E quindi mi sembra che l'unico motivo per il quale esiste al giorno d'oggi la scuola sia solo questo. Noi stiamo crescendo dei lavoratori, prima che delle persone. E a crescerli come persone, a dargli una cultura, ci sta pensando internet, con i suoi video, con i suoi hashtag, ma anche con le sue notizie false. E quindi il tema che mi piacerebbe che ci portassimo a casa tutti quanti e che magari ne discutessimo con i nostri figli, con i giovani, è come possiamo cambiare l'insegnamento per fare in modo che i giovani si possano riallacciare alla cultura. Già in realtà sbagliamo. Perché noi non dobbiamo cambiare? Le materie che consideriamo vecchie, di nuovo, la geografia, la letteratura, il latino, o la chimica, vanno bene così. Vi faccio un esempio. Oggi, soprattutto negli ultimi tempi, l'avrete sentito, viviamo in un clima di odio, di divisione sociale, di suprematismo. Se noi non studiassimo la storia, ve lo ricordate l'ultima volta cosa è successo dopo un clima di odio, di divisione sociale, di suprematismo? No. Le materie vecchie vanno bene così. Noi dobbiamo adeguare l'insegnamento per fare in modo che i giovani possano ritornare alla cultura. E lo dobbiamo fare in realtà con quello che ci ha contraddistinto negli ultimi vent'anni e che ha contraddistinto la crescita dei giovani, che è la tecnologia digitale. Oggi vorrei portarvi una testimonianza, una visione che abbiamo avuto nella scuola, dove lavoro, di quello che potrebbe essere una lezione nel futuro. Lo abbiamo chiamato Holodeck. Come il ponte degli ologrammi. Avete presente l'Enterprise, l'astronave di Star Trek? Qualcuno probabilmente l'ha visto Star Trek, vero? Ok. Quel ponte degli ologrammi ci si poteva entrare e cambiava a seconda di quello che si voleva. Si poteva essere alle Maldive, su un altro pianeta, quello che si voleva. Ecco, Holodeck per noi è una classe in realtà virtuale, dove ogni studente ha il proprio visore ed è in grado di assistere a delle lezioni di materie normali, come l'astronomia, come la chimica, le scienze, ma anche la storia e la geografia, aumentate attraverso l'animazione 3D. Oltretutto i ragazzi possono vedersi all'interno dello spazio virtuale e possono vedere le loro mani, quindi possono interagire con gli oggetti 3D. Ecco che quindi noi non stiamo andando a cambiare il cosa dobbiamo raccontare ai giovani. Stiamo aggiornando il come lo vogliamo raccontare. In realtà utilizziamo una tecnologia che è molto più sulle loro corde, un sistema di insegnamento che è basato su quello che loro normalmente vedono ogni giorno, che sono le immagini in movimento. Oggi avevamo pensato di portare una demo, portarvi una demo di Holodex grazie alle tecnologie di questa sala. Sarebbe stato l'effetto wow di questo speech. Purtroppo qualche giorno fa la direzione dell'M9 ci ha detto che questa sala non sarebbe più stata in grado di supportare questo tipo di demo, per cui io innanzitutto vi faccio le mie più profonde scuse e vi chiedo di fidarvi semplicemente delle immagini che avete visto e della mia parola sul fatto che questa tecnologia è veramente incredibile e invitarvi, qualora lo vogliate, a venirla a provare direttamente a BigRock. Lì almeno i visori funzionano. Holodex è una sperimentazione ancora. Non abbiamo la pretesa o la presunzione che diventi la scuola del futuro. Ci piacerebbe però poterla integrare a quello che è un sistema di lezioni che esiste già, come un laboratorio, come il laboratorio di arte o il laboratorio di scienze che già esistono nelle scuole. Immaginatevi un'ora di astronomia, un'ora di geografia, un'ora di storia o un'ora di chimica passata, un'ora alla settimana passata all'interno di Holodex. Sarebbe incredibile, anche perché è scientificamente provato che quando uno studente ha a che fare con una lezione di tipo interattivo, quindi può interagire anche con le mani, le sinapsi del cervello si attivano molto di più. Quindi una lezione di tipo interattivo in questo modo è molto, molto più efficace. Noi dobbiamo ricominciare, o meglio, dobbiamo cominciare a usare la tecnologia per riportare gli studenti a innamorarsi di nuovo della cultura e dobbiamo insegnarli a utilizzare le tecnologie che loro già hanno. YouTube, che sembrava Deni Grassimo prima, in mezzo al tanta porcheria, un sacco di video bellissimi e estremamente istruttivi, i TED per primi. La programmazione va bene insegnarla ai bambini, ma che abbia uno scopo, che gli insegni come ragiona logicamente un computer per fare in modo che loro possano imparare a ragionare a livello critico, a livello logico. Ma soprattutto dobbiamo cercare di reinsegnare a sognare ai nostri figli, a sognare le persone che vorrebbero essere da grandi. E lo dobbiamo fare appunto con la tecnologia, dobbiamo farli re-innamorare della cultura perché solo la cultura li farà crescere come persone. Un recente studio di Lego su un campione di circa 3.000 bambini ha riportato che alla domanda cosa vorresti fare da grande più di un terzo di loro ha detto che vorrebbe fare lo YouTuber invece che l'astronauta. Questa cosa è abbiacciante. In un momento come questo, dove stiamo per affrontare uno dei cambiamenti climatici più catastrofici della nostra storia, noi non abbiamo bisogno di YouTuber, noi abbiamo bisogno di scienziati, abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di architetti, abbiamo bisogno di politici giusti, abbiamo bisogno di tutti quegli eroi che grazie alla loro cultura e al loro sapere possono rimediare agli errori del passato e cercare di fare qualcosa per curare questo pianeta. O se non ce la possono fare, trovare una soluzione per abbandonarlo. Per cui sì, abbiamo bisogno di astronauti. Io mi auguro che al primo giorno di scuola possiamo ricordare tutti quanti ai nostri giovani, ai nostri figli, il perché stanno andando a scuola, il perché studiano. Ricordiamogli di sognare, di sognare un futuro migliore o essere ispirati da altri sognatori e studiare tanto e farsi una cultura e poter effettivamente realizzare quei sogni. essere nel mezzo tra queste due cose in questo momento non ne vale veramente la pena. Grazie.